Spettacolare incidente oggi pomeriggio qui a Meleniano in barriera sud per i veicoli che escono dalla città e si dirigono verso Bologna. Come vedete alle mie spalle una camion ha violentemente sfondato prima il guardrail in cemento armato e poi ha finito la sua folle corsa contro le stazioni della telepass mandando letteralmente in tilt il traffico autostradale. Erano da poco passate le 13 e 30 quando un tir che trasportava migliaia di copie di giornali settimanali si è accartocciato contro la barriera di Meleniano lungo le entrate riservate agli utenti del telepass sul terribile incidente che per fortuna non ha coinvolto altri mezzi in transito e che ha procurato al camionista solo qualche scoriazione guaribili in una decina di giorni. La polizia stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica. Secondo alcuni testimoni però pare che il mezzo pesante a velocità sostenuta abbia prima impattato contro la barriera di cemento a sinistra che divide i caselli in entrata da quelli in uscita e poi sempre in movimento abbia terminato la corsa sbandando rovinosamente contro la parte finale del manufatto autostradale. Nell'impatto il rimorchio è andato parzialmente distrutto e l'intero carico è fuoriuscito invadendo parte delle carreggiate d'ingresso sull'autostrada 1. Molto spavento ma fortunatamente nessuna vittima. In quell'ora infatti il traffico in uscita da Milano non è sostenuto. Una cosa è comunque certa se un analogo incidente fosse avvenuto dopo le ore 17 quando migliaia di pendolari lasciano ogni giorno il capoluogo lombardo il bilancio dei feriti o addirittura delle vittime sarebbe stato probabilmente drammatico.